Attimi di paura al Pionta. Questa mattina un giovane originario del Gambia è stato infatti aggredito all'interno del parco cittadino. Prima è stato preso a bastonate, poi è stato colpito con una bottiglia alla testa. Un'aggressione che si è conclusa in una pozza di sangue. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri che avrebbero già identificato l'aggressore. Si tratta di un giovane, anche lui, originario del Gambia. Guardava il cane e ho visto correre un signore dall'interno del parco verso di lui con un bastone e l'ha preso letteralmente a bastonate e poi, diciamo, avendo perso il bastone gli ha tirato una bottigliata in testa. Tutto questo in episodio di circa 15-20 secondi. Si è ferito, ovviamente. Il problema era il fatto che perdeva sangue copiosamente dalla testa. Io sono anche infermiere e quindi l'ho fatto sedere e sdraiare. Io ho allertato sia le forze dell'ordine che il 118. Sono tutti sul posto e l'hanno portato all'ospedale verso il punto soccorso. Quindi, in realtà, c'è poco da aggiungere se non un annesimo episodio di inciviltà e purtroppo tutti gli sforzi che vengono fatti per riqualificare questo parco. L'opinione pubblica lo percepisce sempre come una fonte di pericolo e questo mi sembra poco giusto per quanto sia bello questo parco e sia doveroso poterci venire in tranquillità e in sicurezza. Come si vive adesso? Insomma, ho rischiato. Sicuramente le bastonate per me, non certo da parte sua, mi sarebbero arrivate più dalla moglie, forse. Però, insomma, a un metro di distanza, uno può pensare anche di aver rischiato qualcosa. Ecco.